Sequestrata da Olbia dalla Guardia di Finanza, un'azienda agricola di un imprenditore italiano residente in Svizzera, trasformata in un residence di lusso. I militari hanno accertato che nella tenuta ubicata nella frazione di San Pantaleo era stata realizzata una multiresidenza da affittare a facoltosi turisti nel periodo estivo, in spregio a qualsiasi vincolo imposto dal piano paesaggistico. I locali, ricavati dalla trasformazione di fabbricati rurali e finili in dependence di lusso, venivano affittati anche a 15.000 euro per una settimana e pubblicizzati su siti internazionali specializzati. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno quindi sequestrato l'intera area sulla quale era stata realizzata una villa padronale articolata su quattro caseggiati con due piscine. Il titolare dell'attività è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria per reati in materia di lizia, notificando al contempo l'immediata cessazione dell'attività ricettiva extraalberghiera, in base a quanto disposto da un'ordinanza del Comune di Olbia.